Senti, c'è un artista mondiale con la quale proprio ti piacerebbe lavorare? Se potessi scegliere, no? Oggi? Sì. Oggi non c'è, c'è stato. Come ti dicevo, Nureyev, Michael Jackson. Con Nureyev c'era quasi arrivato. Però quello che mi è mancato... Non a caso poi Bofossi, in un'intervista, ha dichiarato anche lui che i più grandi ballerini nel mondo, secondo lui, erano Michael Jackson e Nureyev. Due cose completamente diverse, ma sublimi.